E dopo Feltri è il momento del nostro dibattito politico, vi presento i miei ospiti, Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, ben ritrovato, buonasera, Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico, buonasera e ben ritrovato, e Paolo Spena del Partito Comunista in collegamento da Roma, buonasera Spena, allora quella partita da poco è una campagna elettorale, non so se disorienta la gente, gli italiani sicuramente sono divisi, oggi cerchiamo di mettere di fronte due tra i partiti più rappresentativi, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, proviamo a trovare le differenze, partiamo da questo servizio di Elisabetta Ferri tra la gente. PD o 5 Stelle? Ne sono le due. Per primo, prima PD, adesso ultimamente sinceramente quello che è successo ho qualche preferente in più per il 5 Stelle. Oggi ti direi 5 Stelle, perché avendoli provati tutti, proviamo anche quest'altro. C'è un qualcosa in particolare del loro piano elettorale che ti convince oppure così è un po' a caso, vai a votare? No, vado a caso, forse la cosa che mi convince di più è perché sono giovane, diamo la fiducia ai giovani. Sicuramente non 5 Stelle. Tu credi ancora nel PD, vuoi darle ancora fiducia? Sì, nel senso che comunque è sempre stato il mio orientamento politico, anche se obiettivamente i vantaggi personali non ne ho avuti. Si parla di abbassare le tasse alle famiglie con dei figli? Sì, ma non è una cosa così semplice, parlare di abbassare le tasse to court non ha senso. Si dicono tante cose nei momenti in cui si deve andare a votare e alcune sono assolutamente assurde, insomma. Come non far pagare l'università, mi scusi, questa è la bitad più grossa del 2018. Tutte fanno offerte come i supermercati. Promettono tutti pure le tasse, eccetera, però l'evasione è continua. La giustizia è nelle mani del Padre Eterno. Può darsi che voterò per senatore Grasso, una persona per bene che è almeno rispettabile, è stato anche un magistrato molto importante. Del piano elettorale di Grasso qual è il punto che più l'ha convinta e conquistata? Poche cose, ma di preciso non glielo so dire. Il mio voto sarà un voto di protesta, per cui sarei indirizzato a nuovi volti, a nuove idee. Quindi 5 stelle? Probabilmente. Ci vorrebbe qualcosa di nuovo, forse 5 stelle sono quelli che possono dare un po' la scossa. Di Maio le dà sicurezza? Sì, mi piace, come persona mi piace. Non ha tantissima esperienza, però mi sembra abbastanza preparato. Non pensa che magari una poca esperienza possa portare a una maggior crisi? Potrebbe anche essere, però non è neanche detto che l'esperienza, almeno fino a questo punto, possa dare più fiducia. Io ho grande fiducia in Renzi, sì. Sono uno di quelli che ha votato per il SIA referendum e sono convinto che l'Italia ha perso l'occasione della vita votando no. Però insomma sono in tanti gli italiani delusi da questa legislatura? Sì, beh, non c'è mai stato un italiano non deluso a qualsiasi legislatura. Anche quando c'era Giolitti lo chiamavano il maestro e il ministro della malavita. Quando c'era De Gasperi ne hanno detto di tutti i colori. Insomma andrà a votare ad esclusione? Ad esclusione, esatto, ad esclusione. Vittorio 5 stelle oppure Grasso. Il PD non mi convince Renzi con tutte le balle che ha raccontato. 5 stelle, figuriamoci, cosa stanno combinando. La sinistra non può governare continuamente litigando. Ai 5 stelle, guardi, piuttosto di votare un comico, mi sparo. E la madonna, esagerato. Poi gli altri che dicono ad esclusione vado ai 5 stelle. Eppure dei programmi li avete presentati voi come tutti gli altri, peraltro innovativi su certi aspetti, no? Sì, noi siamo, io ho seguito principalmente il programma Affari Istituzionali, quindi il nuovo sistema, la nuova macchina dello Stato che sappiamo tutti essere in gigantia, bloccata completamente, pesantissima. Diciamo delle piccole cose molto semplici. Lei sa, anzi, saprà benissimo che i dirigenti italiani sono tantissimi e tutti valutati ai massimi livelli. Certamente ce ne saranno la maggior parte di bravi o anche bravissimi, ma ce ne saranno alcuni, come in tutte le categorie, che non vanno molto bene. Anche questi alcuni sono premiati ai massimi livelli, crescono di carriera, pigliano un sacco di soldi. Noi abbiamo inventato un meccanismo che collega la valutazione della struttura di cui i dirigenti sono responsabili con la valutazione degli stessi dirigenti. Oggi accade che loro sono bravissimi, massimo premio, ma la struttura che dirigono è pessima. Come si fa? Noi prendiamo, che l'abbiamo chiamato il TripAdvisor, la pubblica amministrazione. Tu sei un avvocato, ti interfacci con il tribunale, tu sei, che ne so, la mamma che deve iscrivere la figlia a scuola, sei il comune per la regione. Lasci un feedback sulla base della carta dei servizi, perché ogni servizio pubblico ha dei parametri specifici di valutazione, i tempi, ad esempio, in cui deve essere erogato. Lasci questo feedback, questo incide sulla valutazione dell'organizzazione, che se va male non permetterà al dirigente di crescere di carriera e di prendere soldi. Sappiamo che questa roba qua l'hanno già promesso in tanti, ma non l'ha fatta mai nessuno. Sa perché? Perché i dirigenti, le strutture delle partecipate, tanti poteri dallo Stato, sono sacche di potere e di poltrone e di voti di conseguenza. Quindi tutte le varie spendi in review che dovevano tagliare le partecipate, ad esempio, sono l'ultima di Cottarelli, sono rimaste nei cassetti. Siccome noi abbiamo le mani libere e nessuno ci porta acqua al nostro mulino, possiamo tranquillamente riattivare le pale e farlo riattivare tranquillamente. Leggevo di qualche partecipata romana dove il Movimento 5 Stelle ha messo tanti dei suoi. Probabilmente leggevo male, vero? Io non ho mai sentito questo. Io so solo che l'Atac, che è la più grossa azienda dei trasporti europea, che è stata lasciata con dei debiti, non lo so neanche più le cifre, dai vecchi partiti, dagli esperti della politica. Che l'avevano saccheggiata. Che l'avevano saccheggiata, come lama, quanto tutto il resto. Sai cosa volevano fare? Come sempre. Privatizzarla. Cioè il servizio pubblico per cui tu, io, lei e anche Mirabelli paga le tasse, pessimo, siccome è gestito male, come se lo Stato non potesse gestire bene i servizi pubblici, nonostante le tasse che paghiamo, dobbiamo darle in mano ai privati. Così i nostri soldi nelle tasse, zero. E in più i privati gestiscono a cavoli propri con l'obiettivo del profitto. Il nostro obiettivo è quello del buon servizio pubblico. L'Atac la stiamo sanando. Il percorso si chiama cordato, preventivo in continuità. E anche nell'Atac, prima o poi, chi ha la responsabilità dovrà uscire e dovrà pagarle. Mirabelli. Cosa devo dire? Sembrano convincenti. Se non governassero Roma, sarebbe, da due anni sarebbero convincenti, nel senso che, ricordo che su Ama hanno già cambiato due o tre volte. Possono aver sbagliato persona su Roma. Sì, sì. Il sindaco? Ma non lo so. Io penso che su Roma, su Torino, su altre realtà, si è dimostrato, adesso a proposito non delle cose che diceva Torinelli, ma delle cose che sentivo nel servizio, che, poi, alla prova del governo, non mi pare che i Cinque Stelle abbiano avuto una capacità di rispondere positivamente. Però, guardi, io sono d'accordo sul fatto che se facciamo questa campagna elettorale, o sparando grandi promesse, o sparandoci addosso, facciamo un cattivo servizio alla politica e alla democrazia. Io penso che dobbiamo parlare delle proposte, dobbiamo anche parlare delle cose fatte. Vedi, se Torinelli parlava di cose importanti rispetto alla riforma della pubblica amministrazione, ricordo che abbiamo fatto una riforma della pubblica amministrazione che è in via di applicazione, perché i decreti attuativi si devono fare, che va esattamente in quella direzione. Loro hanno votato contro, ma va esattamente in quella direzione, responsabilità dei dirigenti, premiare il merito, non premiare tutti, non ci deve essere la... le carriere non devono essere continue, costanti, a prescindere dal merito. La possibilità di licenziare anche e soprattutto i dirigenti. Mi pare che si è fatto molto da questo punto di vista. Sento in questi giorni proposte, ho sentito il... Silvio Berlusconi l'altro giorno ha fatto due proposte interessantissime. Una, quella di pubblicare, di fare il 730 semplificato, consentendo alle persone di farlo via web, cosa che c'è già da tre anni, lo informo e si faccia informare dai suoi commercialisti, e già milioni di italiani utilizzano questo strumento. E poi sentivo che adesso facciamo le detrazioni dei contributi di chi assume giovani, cosa che è contenuta nella ultima finanziaria e che abbiamo già fatto col Job Act per tre anni. Chi è stato assunto con contratti a tempo indeterminato, col contratto a tutte le crescenti, non ha avuto l'onere di pagare i contributi. Quindi molte cose sono state anche fatte. Io penso che ce ne siano ancora molte da fare, perché dalla crisi è uscito il Paese dal punto di vista macroeconomico, adesso dobbiamo far uscire tutti gli italiani e quindi bisogna proseguire in questa azione di riforma. Paolo Spena, dei discorsi che ha sentito, cosa l'ha colpita di più? Ma sicuramente questi ultimi discorsi di Mirabelli, che ha parlato degli sgravi fiscali previsti dall'ultima finanziaria che dovrebbero servire a combattere la disoccupazione giovanile. Nell'ultima legge finanziaria sono previsti gli sgravi fiscali del 50% per chi assume i giovani sotto i 30 anni, però fino a una soglia massima di 3.000 euro. Stiamo parlando quindi di una soglia che corrisponde a un livello salariale, a una retribuzione, se si fanno due conditi, stipendi di 800 euro al mese. Questa è l'occupazione che oggi sta promuovendo il governo, sta promuovendo il Partito Democratico, che è coerente con quello che ci hanno detto in tutti questi anni, cioè ci hanno detto che per combattere la disoccupazione giovanile bisognava ridurre i diritti dei lavoratori, bisognava abbassare i salari, avere meno diritti e meno tutele, promuovere il lavoro precario. Il risultato è che sì, il dato della disoccupazione magari scende, abbiamo avuto gli ultimi dati dell'Istat, ma sono dati falsati. L'Istat oggi considera occupato chi lavora anche solo un'ora nella settimana in cui viene condotta l'indagine, quindi tutto questo lavoro precario che oggi il governo sta promuovendo servirà per gonfiare un po' le statistiche per l'Istat, ma sicuramente non è una misura che serve oggi a combattere la disoccupazione giovanile, e bisognerebbe al contrario parlare di altre cose, parlare ad esempio di diritti dei lavoratori e di puntare realmente alla piena occupazione, cosa che nessuno oggi in Italia vuole fare. No, posso, perché ho sentito cose interessanti. Intanto le detrazioni, anche per i giorni, sono soltanto per chi fa il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutte le crescenti, quindi non è vero che si può lavorare un'ora, bisogna essere assunti a tempo indeterminato. Secondo, voglio dire, questi sgravi che abbiamo dato alle aziende hanno consentito comunque di rimettere in moto un mercato del lavoro che oggi ha lo stesso numero di occupati che c'erano nel 77, cioè abbiamo raggiunto oltre 17 milioni di occupati, di cui è vero che c'è una percentuale troppo alta ancora di lavoratori a tempo determinato. Faccio notare che però su questi 17 milioni, 15 milioni di questi lavoratori sono a tempo indeterminato. E aggiungo, guardate, sui diritti, questo è il governo che ha proibito le famose dimissioni in bianco, questo è il governo che garantisce anche ai lavoratori autonomi e ai lavoratori con contratto a tempo determinato di avere un ammortizzatore sociale. Pena e poi Toninelli, su questo. No, sì, vorrei rispondere che sì, ma questi lavoratori, questi giovani, verrebbero assunti con il Jobs Act, cioè con il cosiddetto contratto a tutele crescenti, che può essere anche spacciato dal punto di vista formale e giuridico per un contratto a tempo indeterminato, ma di fatto con la cancellazione dell'articolo 18, con tutto quello che è stato fatto, oggi in Italia anche con un contratto a tutele crescenti si può essere licenziati con una facilità estrema. E guardate, basta vedere i dati degli sgravi fiscali che sono stati previsti dal 2015 con il Jobs Act. Che cosa è successo? È successo che nel primo anno effettivamente, finché ci sono stati questi sgravi fiscali, c'è stato un aumento temporaneo dell'occupazione giovanile, che come sono finiti gli sgravi si è immediatamente sgonfiato e si è tornato a licenziare ed è tornata a crescere la disoccupazione giovanile. Non si può pensare oggi che il problema della disoccupazione giovanile possa essere combattuto dando sgravi fiscali alle imprese, che non è che ci stanno facendo un favore a farci lavorare, serve a loro perché fanno profitti sulla nostra pelle. È proprio sbagliata questa ricetta di voler fare questo. Bisognerebbe al contrario puntare realmente su un'occupazione stabile che garantisca ai giovani oggi il diritto a un futuro stabile, il diritto a costruirsi una vita, a costruirsi una famiglia. Questo oggi è un diritto che viene negato per la parte dei giovani delle nuove generazioni che sono condannati a un futuro di precarietà. Sì, allora innanzitutto io penso che bisogna avere un'umiltà di giudizio e un'autocritica. Oggi mi pare chiaro affermare che nell'ambito lavorativo il Partito Democratico, il Partito di centro-sinistra, la maggioranza di centro-sinistra abbiano concluso quanto Berlusconi aveva iniziato nel 2003 con la legge Biagi, vi ricorderete i contratti a chiamata, cioè l'istituzionalizzazione del precariato. Il Partito Democratico ha chiuso quel quadro della precarizzazione totale, soprattutto per i giovani, con l'abolizione dell'articolo 18 e con la precarizzazione a vita, perché quelle agevolazioni che sono state date agli imprenditori per assumere sono tali per cui tu tieni il lavoratore fintamente dipendente a tempo indeterminato per i primi anni in cui hai lo sgravio e poi lo puoi licenziare mantenendo comunque un vantaggio economico sullo sgravio ottenuto. Ma è talmente vero quello che dico che sono i dati, l'Istat e l'Eurostat, che non sono il Movimento 5 Stelle, hanno il primo affermato che l'Italia nell'ultimo anno ha avuto una crescita dal 28 al 30% degli italiani a rischio povertà. Se escludiamo i 4.700.000 poveri assoluti, cioè più di un italiano su tre, o è povero assoluto o se prende una multa con i tanti, multa Velox, non so come chiamare, addirittura adesso ci sono le telecamere che ti danno la multa se per un giorno sei fuori dalla revisione della macchina, perché questa è la realtà e lo fanno i sindaci, perché chi ci ha governato ha tagliato negli ultimi anni 17 miliardi agli enti locali, ecco il 30% è più di... Ci sono anche nei comuni governati dei 5 Stelle. Questo non lo so, io mi opporrei, io se fossi un sindaco 5 Stelle l'ultima cosa che metto è un misuratore di velocità per prendere i nostri pendolari... Ufficialmente è per combattere gli incidenti. Sì, certamente, metti altri dissuasori. Detto questo, l'Eurostat ci dice che siamo il paese dei 28 in Europa con il maggior numero di poveri. Noi facciamo una proposta, Lor Mirabelli come i suoi colleghi ci dirà che è assistenziale questa proposta, che il reddito di cittadinanza è una vera e propria manovra economica. Le coperture ci sono, ci sono state certificate in questi 5 anni da parte della Commissione Bilancio, di Camera e Senato e dalla Ragione dello Stato. Perché dico che è una misura economica? Tu oggi guadagni meno di 780 euro, è la cifra che l'Eurostat dice sotto la quale sei povero, ok? Se tu guadagni di meno, vale anche per i pensionati, significa che un pensionato a 500 euro ne guadagna 780. Gli altri, tutti gli altri, non pensionati, italiani, maggiorenni, si mettono in un circuito di formazione e riqualificazione professionale. Devono andare alle agenzie per l'impiego, serie, perché ci mettiamo 2 miliardi, non quelle in cui sono precari gli stessi che lavorano nell'agenzia per l'impiego. Devi formarti, partecipare a corsi di formazione, fare lavori socialmente utili. Andrai a ramazzare le strade di fronte alla scuola di tuo figlio nel periodo in cui stai prendendo il reddito. Quando ti arriva la proposta dopo 1, 2, 3 mesi la devi accettare, se no il reddito lo perdi. Perché è fondamentale questo? Perché è una misura economica shock? Perché l'Italia non ha una crisi di imprenditori che vogliono produrre e vendere, ha una crisi di cittadini normali come Toninoelli che non hanno soldi per comprare le scarpe. E l'aumento fino al 30% come dicevo di povere è proprio questo. Se tu oggi rimetti nel circuito economico del ceto medio i soldi, questi saranno riqualificati, torneranno a avere dignità, serenità, tranquillità per il futuro e ritorneranno a crescere. Che i nostri piccoli e medi imprenditori meravigliosi potranno tornare a produrre quanto possono perché le hanno le capacità. Ed è così. Non è il reddito di dignità di Berlusconi che si copia o non so come... Sì, stavo per dirlo, la stessa roba che ha detto Berlusconi. Il reddito di inclusione del Partito Democratico che non investe, che mette 2 miliardi non so quanti anni, non investe nell'impiego, nella riqualificazione. Quello sì che è assistenzialismo. Ma io non voglio assolutamente, Mirabella, litigare ben lungi. Io vorrei che ci fosse convergenza sulle proposte. Gli sta dando degli incompetenti e poi non vuole litigare. Potrà rispondere. No, no, ma guarda... No, no, ci mancherebbe altro. Il problema non è essere incompetenti o non essere incompetenti. Cioè il problema è se si vuole fare un confronto si fa un confronto. Allora si dicono i numeri veri. I numeri veri sono che è vero che c'è un pezzo di paese che dal 2008 a oggi, con la crisi, soprattutto il ceto medio, è entrato nella soglia di povertà o spesso sotto la soglia di povertà. Dopodiché è giusto dire che c'è un governo con i limiti che ha di bilancio, che avremo tutti, i limiti di bilancio li avremo tutti. Perché questa cosa di dare soldi, tagliare tasse, eccetera, è una cosa che... Bella da dire, difficile da fare. Con i limiti di bilancio noi abbiamo messo oggi a disposizione dal 1 gennaio di 800 mila famiglie un reddito e non solo un reddito, un percorso di inserimento lavorativo. Perché il problema per noi non è il reddito di cittadinanza, il problema per noi è creare lavoro, è creare una condizione per cui le imprese possono crescere e i lavoratori possano lavorare. Avere un milione di lavoratori in più da quando abbiamo iniziato a governare sarà una cosa che non funziona. Io però preferisco il milione di lavoratori in più oggi, ancora troppi a tempo determinato, ma non la maggioranza a tempo determinato, che sono stati costruiti in questi anni, piuttosto che i 2 milioni e mezzo di posti di lavoro che abbiamo perso da quando è iniziata la crisi, nonostante ci fossero articoli. Riprendiamo subito dopo la pubblicità, grazie. Vediamo rapidamente nella tabella, se non ho capito male, il confronto tra i due programmi del Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la lotta alla povertà, il Partito Democratico propone di mettere a regime il reddito di inclusione e il salario minimo garantito. Il Movimento 5 Stelle è il reddito di cittadinanza fino a un massimo di 780 euro. E questo, mi diceva Toninelli, si estende anche alle pensioni. Esatto. Sì, perfetto. Fisco, riduzione tasse dalle famiglie con figli, lotta all'evasione, superamento del fiscal compact per il PD, tassazione progressiva, meno detrazioni ai redditi alti e flat tax forse per il Movimento 5 Stelle. State studiando che voi una flat tax? Allora, flat tax è una rimodulazione sicuramente delle aliquote per intervenire sul ceto medio e un abbattimento per quanto possibile del cuneo fiscal. Il costo del lavoro, ragazzi, non è più sostenibile. Però la vera e propria manovra che riguarderà poi le tasse è quella sui investimenti produttivi. Perché creando lavoro, facendo investimenti non nelle grandi opere come il TAV o il TAP, il treno ad alta velocità o il TAP, quello sul gasdotto in Puglia, ma sulle tantissime piccole e grandi opere. Un esempio molto veloce. Sa che un miliardo di euro investito in riqualificazione energetica degli edifici e Dio sa quanto ne hanno bisogno, le nostre case, soprattutto anche edifici pubblici, comporterebbe, dati delle associazioni, 18 mila posti di lavoro. Se tu investi invece un miliardo nella grande opera, dicono sempre le associazioni, non noi 600 posti. capisci che ci sono le possibilità di fare tante belle cose. Allora, lavoro abbiamo detto, taglio del costo del lavoro e miglioramento del Job Act per il PD, abolizione del Job Act e reintroduzione all'articolo 18 e riforma dei sindacati per il Movimento 5 Stelle, pensioni, PD, ampliamento dell'APE volontario per gli over 63 a carico dello Stato per i lavoratori in difficoltà e il taglio su pensioni oltre i 5 mila euro per il Movimento 5 Stelle. Immigrazione, PD va avanti sullo Iussoli, il Movimento 5 Stelle, politiche di assistenza degli immigrati nei loro paesi al fine di ridurre gli sbarchi. Dovesse scegliere... Questo schemino è Iussoli e anche l'altra cosa. L'altra cosa la stiamo già facendo. L'ho fatto a prova di deficiente, quello che passa. Cosa vuole aggiungere? No, perché se passa che sono i 5 Stelle quelli che vogliono governare i flussi e noi, lo Iussoli, sembra che ci sia un PD. Avendo ridotto, in grazia a quella politica lì, che abbiamo fatto, non che abbiamo declamato il 36... Sì, siccome con le politiche diminuiti, che sono quelle cose lì, le stesse che ha sintetizzato, abbiamo ridotto del 36% gli sbarchi in questi mesi, sugli stessi mesi dell'anno precedente, si è cominciato a lavorare esattamente in quella direzione, quindi... Allo Spena del Partito Comunista, ovviamente non la convince nessuno di questi. Qual è il peggior difetto delle due parti? Partiamo dai 5 Stelle. Ma guardi, più che peggior difetto, a me piacerebbe dire una cosa che hanno in comune entrambe le forze politiche. Oggi parliamo di due forze politiche che non rappresentano effettivamente un'alternativa con un sistema di potere che oggi governa l'Italia e che in questi anni ha governato centrodestra e centrosinistra contro i lavoratori, contro la gioventù, contro le classi popolari. I 5 Stelle si presentano come un'alternativa, ma vorrebbero convincerci che basterebbe parlare di onestà per essere in qualche modo alternativi a tutto questo. Noi ci candidiamo oggi appunto con un programma di lotta con l'ambizione di tornare a far sì che i comunisti rappresentino un'alternativa e una speranza per i lavoratori, per migliaia di giovani in questo paese che sono condannati alla precarietà e quindi con un programma di lotta che parla sì di lavoro, di casa, i diritti sociali e che soprattutto dice delle cose che oggi in Italia non dice nessuno. Siamo rimasti ad esempio l'unico partito in queste elezioni che ha una posizione chiara che dice di voler uscire dall'Unione Europea, di voler uscire dalla Nato, di voler rompere con tutto questo, di voler ripudiare il debito pubblico ad esempio. Siamo l'unica forza politica che appunto si pone in alternativa reale con il sistema di potere che esiste oggi. Questa è una cosa invece che non hanno nessuna delle due forze e quindi è un elemento comune, quello di volersi in qualche modo candidare ad amministrare semplicemente lo stato di cose esistente ma di non volerlo cambiare. Se posso una bella felicità. Prego. Ma innanzitutto io sono felice di vedere un ragazzo così giovane mettersi in politica perché c'è veramente bisogno di giovani. Però dico anche, e ve lo dico con molta umiltà da zio, di guardare alla credibilità della politica. Io oggi dovevo venire a confrontarmi, mi dica, con Rizzo mi pare, del Partito Comunista, che lei oggi sta sostituendo. Lei ha mai provato a chiedere a Rizzo il vitalizio che sta prendendo? Dicono fonti di stampa che il suo capo politico prende 4.500 euro netti. No, no, mi lasci finire, mi lasci finire. Non ci provi. Io l'ho ascoltata, mi lasci finire. Marco Rizzo oggi. Mi lasci finire, 4.500 euro al mese di vitalizio. Non l'ho mai sentito né lei né il suo partito né Rizzo aiutare il Movimento 5 Stelle per la lotta all'abolizione di un privilegio. Io la pregherei di non parlarmi addosso. Come finanziamento del partito che viene utilizzato per promuovere le lotte del partito. Eh no, però mi scusi se dice delle cose false. Si chiama Paolo Spena. Paolo Spena, abbia pazienza. L'educazione comporta che lei stia zitto quando io sto parlando come io sono stato zitto quando lei stava parlando. Quindi la credibilità, quella campagna elettorale qua deve giocarsi. Io chiedo ai cittadini con molta umiltà perché lo faccio su me stesso. Sulla credibilità. Chi le parla, si dimezza lo stipendio, fa parte di una forza politica che non solo che non si piglia il vitalizio e ha fatto di tutto per abolire i vitalizi precedenti che ripeto Rizzo del partito comunista prende ma che ha rifiutato i finanziamenti pubblici, che vuole una seria lotta alla corruzione che purtroppo non abbiamo avuto tante spalle a darci una mano perché c'è ancora tanto da fare ma bisogna essere credibili perché alle parole devono corrispondere i fatti. Non siamo perfetti, certamente non lo siamo. Ad oggi da opposizione quello che abbiamo detto lo abbiamo fatto e io sono convinto che lo faremo anche quando saremo al governo. Grazie Toninelli. Risponda Spena su questo esempio pratico che Toninelli aveva preparato perché ripeto, come ha detto lui, doveva confrontarsi con Rizzo che poi è stato sostituito degnamente peraltro da lei perché è molto bravo in televisione a spiegare le cose però spieghi anche questa che le ha chiesto Toninelli. Ribadisco in primo luogo che il segretario del nostro partito percepisce un vitalizio che versa per metà nelle casse del partito insomma come forma di finanziamento del partito per promuovere le nostre lotte in secondo luogo vorrei dire che il nostro partito ha messo una regola cioè che è una regola che hanno anche tanti partiti comunisti anche nel continente e in tutto il mondo e cioè che se noi riusciremo in futuro ad eleggere dei deputati i deputati del partito comunista percepiranno uno stipendio equivalente al salario medio di un lavoratore e l'intero stipendio da parlamentare sarà devoluto al partito è una regola che serve proprio a far sì che i deputati, che i parlamentari dei comunisti non si scollino da quelle che sono le condizioni reali dei lavoratori questa è una regola che abbiamo noi per i parlamentari che eventualmente avremo in futuro e che vale oggi anche per il nostro segretario che versa buona parte del suo vitalizio al partito a proposito della credibilità e concludo Toninelli penso che il Movimento 5 Stelle che fino a ieri parlava contro l'Unione Europea e che oggi in campagna elettorale però candidandosi come forza di governo rinuncia ad avere una posizione di rottura forte con l'Unione Europea decisamente non può parlare di credibilità va bene, ve la siete detta vuole la controreplica o la lasciamo così? ma no guardi, in Europa ci devono andare persone credibili l'Italia ha fondato l'Europa, uno dei paesi fondatori al terzo contribuente oggi ho sentito parlare lei del fiscal company nel programma del Partito Democratico o meglio che il Partito Democratico vorrebbe cancellare il fiscal company lei lo sa che lo stanno costituzionalizzando cioè diventerà un trattato immodificabile e il PD ha già votato al Parlamento Europeo Carabelli ho meno di un minuto perché poi devo andare ad incontrare e verrà tra pochi secondi il sindaco di Milano tanto vorrei dire che Berlinguersi ti faccio a fare la... eh no, perché c'è un minuto va bene, ho capito un minuto al netto del fatto che io dico che dopo ci sarà il sindaco di Milano Sala, prego no, io penso che intanto Enrico Berlinguersi sta rigirando nella tomba perché sentire che dei comunisti italiani che vogliono uscire dalla Nato e che sono anti-europeisti francamente non sta né in cielo né in terra per chi ha vissuto la storia del Partito Comunista italiano sui vitalizi vorrei fare dei chiarimenti intanto Tonilelli dovrebbe spiegare sempre che i vitalizi non ci sono più cioè che i parlamentari attuali, quelli della scorsa legislatura di questa legislatura i vitalizi non li avranno stiamo parlando dei vitalizi in essere no, no, mi fai finire dopodiché c'è un altro tema che è emerso e che va raccontato cioè noi abbiamo abolito ogni tipo di finanziamento pubblico ai partiti in questa legislatura ogni tipo di finanziamento pubblico ai partiti abbiamo lasciato la possibilità ai cittadini di devolvere il 2 per 1000 al partito che scelgono mi fa piacere che sono mi fa piacere che sono sempre no, è prima sono sempre di più il 5 Stelle non li prende a me fa piacere che sempre più cittadini 600 mila cittadini sono soldi che non vanno nelle casse dello Stato non c'è più il diretto ma c'è l'indiretto sono soldi pubblici però non vanno nelle casse dello Stato ma vanno nelle casse del PD sono soldi che i cittadini decidono di devolvere a un partito politico invece che a un'associazione o a un'altra cosa siccome è liberale questa cosa siccome ogni tanto ci vuole anche la libertà in questo disegno in questo disegno che avete di mettere di dire a tutti quello che devono fare c'è anche la libertà un cittadino può decidere di devolvere però non può dire che non ci sono finanziamenti pubblici abbiamo tolto i finanziamenti pubblici e abbiamo tolto i rimborsi elettorali ne riparleremo e comunque la metà di quelli che hanno devoluto l'hanno devoluto al PD e che sono aumentati i cittadini che hanno scelto questo studio grazie a Paolo Spena del Partito Comunista in collegamento da Roma grazie a Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle e grazie a Franco Mirabelli grazie a voi del Partito Democratico benissimo allora noi torniamo subito dopo con il sindaco di Milano Giuseppe Sala che tra l'altro oggi è protagonista delle cronache non proprio belline dopo ne parliamo con lui a tra poco